L'ho fatto a fare! Abbiamo acqua in secchina! Medei, medei, qui si ne die! Medei, medei! Il progetto ISIDE nasce per l'esigenza di migliorare la comunicazione tra le imbarcazioni e la guardia costiera per supportare la gestione delle emergenze e del soccorso in mare. L'obiettivo del progetto ISIDE è quindi di migliorare la comunicazione in caso di richieste di emergenza e di soccorso da parte di un'imbarcazione quando ci sono problemi di lingua o di disturbo della comunicazione audio. Abbiamo acqua in Zendina! Mayday, mayday, femmo doname la superba, la superba, la superba, mayday, mayday, mayday. Si verificano con una certa frequenza difficoltà di dialogo e di comunicazione fra chi chiede il soccorso e chi deve fornire il soccorso. Mayday, 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 no c'è in linea! Il supporto che fornisce il progetto ISIDE è quindi basato su una comunicazione testuale. Il vantaggio della comunicazione basata su messaggi è quello di far rimanere i messaggi durante la comunicazione dell'emergenza sul monitor in modo da poterli rileggere e di averne anche la traduzione in automatico nella lingua preferibile. Grazie a tutti!